fratelli e sorelle nel signore oggi volevo parlarvi del digiuno del digiuno che insieme alla preghiera sono sono il modo con cui il credente entra in una particolare comunione con il signore già la preghiera è un'arma potente nelle mani del credente già da sola ma se alla preghiera si aggiunge anche il digiuno ecco che questa diciamo quest'arma quest'arma che nelle di cui è armato appunto il credente diventa molto più forte perché il digiuno cosa fa cos'è il digiuno è astenersi astenersi da mangiare e da bere il digiuno mortifica il corpo lo umilia il corpo lo annienta gli toglie le forze e diciamo affligge anche l'anima e fa sì che tutto tutto diciamo tutto l'essere è concentrato all'aspetto spirituale capite disattiva praticamente toglie le forze l'energia al corpo per poi passare tutte le forze all'aspetto spirituale ed è davanti a dio una umiliazione un rinforzare la preghiera questa umiliazione questa afflizione della propria anima cosa fa fa in alta e rende la preghiera che viene innalzata a dio molto più forte molto più diciamo è come se che si siamo aumentasse di molto il volume della propria preghiera alle orecchie del dio vivente vero quindi il digiuno è importante dobbiamo parlare anche di questo oggi vedremo passeremo le scritture passeremo i passaggi delle scritture dalla legge al nuovo testamento è importante anche il digiuno perché taluni hanno parlato contro il digiuno hanno parlato contro il digiuno per annullarlo ma perché questo perché taluni si sono presi la briga di di combattere il digiuno perché il digiuno unito insieme alla preghiera rendono il credente molto più forte capite c'è il credente con il digiuno cosa fa lotta contro la sua natura carnale che purtroppo rimane sempre tendente al peccato capite la natura umana la natura carnale che rimane dentro di noi perché il nostro corpo ancora non è arrivato non è stato glorificato non è stato ancora liberato non è stato redento non è stato liberato dalle conseguenze del peccato ancora il nostro corpo quello che abbiamo ricevuto noi è stata la salvezza dell'anima è stata la purificazione dei nostri peccati della nostra anima quindi siamo in attesa siamo in attesa della della resurrezione di questo corpo quando noi moriremo e quando il signore tornerà ecco che questo corpo sarà sopravvestito di un corpo glorioso e da quel momento questo corpo sarà privo di peccato non peccherà più non ci sarà più quella tendenza a peccare perché fino a che saremo in questo corpo avremo questa tendenza se noi ci lasciamo andare se noi non perseveriamo più nella preghiera se noi non ci manteniamo in comunione con dio ecco che il corpo la natura peccaminosa che è rimane dentro la nostra carne ci spinge di nuovo a peccare a peccare come facevamo prima di essere convertiti quindi è importante è importante sapere che che cosa è il digiuno è importante sapere che il digiuno cosa fa moltiplica la potenza e la forza del della preghiera che noi innalziamo a dio quindi è importante anche il digiuno cos'è è astenersi per un periodo di tempo che ognuno liberamente singolarmente decide decide di astenersi dal cibo e anche dal bere quindi non mangia niente e non beve niente e non beve niente ci sono taluni che dicono digiuno ma mangiano solo pane bevono solo tè o fanno altre cose ecco quello non è digiuno quello è una particolare dieta mantenuta per un per un giorno per due giorni quanto è ma non è digiuno il digiuno è non mangiare niente e non bere niente per un certo periodo di tempo che io io consiglio 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 perché ci possono essere anche più giorni che uno digiuna ma io consiglio prima bisogna imparare a digiunare un giorno seppur si digiunasse un giorno si impara si prende confidenza col digiuno di un giorno e poi se uno vuole aumentare a due vuole aumentare a tre può farlo però però se si aumentano i giorni di digiuno la debolezza aumenta di molto quindi i pericoli crescono nel senso che siamo senza forze gli spostamenti diventano difficili insomma e tante altre problematiche quindi io personalmente consiglio prendete confidenza sono inizialmente col digiuno di un giorno perché quello è importante quello è già questo sufficiente importante per moltiplicare la forza della nostra preghiera che innalziamo che innalziamo a dio io considero parlo della mia perché poi uno può stabilire di digiunare durante la luce quando c'è la luce un po come fanno anche i musulmani no questo perché i giudei facevano così io personalmente quando digiuno digiuno dalla notte fino alla mattina dopo quindi sono 24 ore sicure con una notte in più in mezzo questo per assicurarmi che digiuno duri almeno 24 24 ore quindi una giornata e una notte intera quindi mi alzo la mattina praticamente vado a letto la sera mi alzo la mattina non mangio niente fino alla notte e poi dopo rimangio l'indomani mattina quindi circa più un po più di 24 ore e in quella giornata di digiuno cosa si fa naturalmente quando si digiuna non è che puoi fare gli affari tuoi cioè poi lo vediamo anche questo il giorno del digiuno tu ti devi estraneare tu vai fuori dalla vita normale quindi non devi lavorare quel giorno è chiaro non devi non devi non devi fare neanche le faccende di casa non ti devi dedicare a nulla ma ti devi concentrare in un giorno di riposo particolare ti devi concentrare totalmente al signore cosa faccio io mi prendo tutti i miei libretti dei cantici la bibbia mi chiudo nella mia stanza e prego tutto il giorno canto alternando preghiera cantico lettura delle scritture tutto quel giorno lo dedico a pregare a invocare a gridare a Dio il digiuno solitamente è bene magari farlo determinando determinando mettendosi davanti determinati obiettivi no del tipo voglio essere guarito quindi digiuno prego il Dio digiunando per essere guarito oppure voglio chiedere una particolare benedizione voglio intercedere per un'altra persona in maniera particolare prego che Dio benedica il mio matrimonio prego che Dio mi faccia trovare una moglie un marito insomma degli elementi particolari è buono che uno si scrive signore io oggi affliggo l'anima mia per domandarti questo in particolare naturalmente potete chiedere anche altre cose non è che chiedete solo quello che però in particolare dite signore io oggi affliggo l'anima mia mortifico il mio corpo e voglio invocare il tuo nome per per ottenere determinate cose per ottenere queste cose che io ti domando e questo bisogna fare adesso vediamo vediamo nelle sacre scritture alcuni passaggi alcuni passaggi biblici che parlano del digiuno e che ci esortano quindi ci esortano anche a noi a digiunare a pregare e digiunare vediamo quanto è importante il digiuno per il signore gesù cristo al capitolo 6 del vangelo di matteo andate al capitolo 6 al vangelo di matteo capitolo 6 al versetto 1 leggiamo guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il padre vostro che è nei cieli poi di seguito parla delle elemosine del pregare e poi parla anche del digiuno capite quindi le elemosine la preghiera il digiuno gesù le chiama la vostra giustizia sì perché perché le nostre opere fanno parte della nostra giustizia guardate bene che le opere noi le dobbiamo compiere quindi dobbiamo abbondare anche in questa giustizia nella giustizia dell'uomo dobbiamo essere abbondanti nelle buone opere e qui gesù ne cita tre ne cita solo tre che sono il fare elemosine ai poveri ai poveri non per costruire locali di culto voglio aprire questa parentesi perché il denaro che viene dato dai fratelli oggi per la maggior parte va a finire nei mattoni nel potere temporale ecco mettiamolo così nella costruzione di locali lussuosi e i poveri sono disprezzati no noi l'elemosina il dare il dare va dato ai poveri a quelli che sono veramente poveri non a quelli che fanno i poveri invece poi sono ricchi sono ricchi o meglio fanno finta di essere poveri più poveri di quello che magari sono ingannano ingannano i fratelli quindi dobbiamo essere accorti, avveduti, fare attenzione anche a chi diamo dobbiamo essere prudenti come serpenti semplici come le colombe ma prudenti dobbiamo essere prudenti quindi dobbiamo dare le nostre elemosine, il nostro denaro a quelli che sono poveri non ai ricchi e non per cose vanni oltre all'elemosina Gesù parla anche della preghiera e quindi bisogna anche anche quella fa parte della nostra giustizia di cui dobbiamo abbondare tenete conto di questo che dobbiamo abbondare nella nostra giustizia ora questo qui non è che le nostre opere ci salvano perché quello che salva è la giustizia di Dio cioè come si diviene giusti davanti a Dio la giustizia di Dio è questa che credendo nel sacrificio compiuto da Gesù Cristo credendo per fede si viene giustificati si viene perdonati dei propri peccati e si viene giustificati questa è la giustizia di Dio per la nostra salvezza però c'è anche una giustizia dell'uomo che non dobbiamo trascurare e tra questa giustizia dell'uomo c'è anche il digiuno di cui leggiamo al versetto 16 e quando digiunate non siate mesti di aspetto come gli ipocriti poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano io vi dico in verità ma che contesto è il premio che ne hanno ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni ma il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa la prima cosa che vediamo qui è che bisogna digiunare in una certa maniera non bisogna digiunare per pubblicare a tutti per far vedere che siamo spirituali e noi andiamo in giro a dire che digiuniamo oppure facciamo vedere con la faccia sfigurata che stiamo digiunando deve venire un fratello a trovarci noi per farci vedere spirituali ci facciamo trovare con la faccia sfigurata perché stiamo digiunando questo lo fanno gli ipocriti capite? questa è ipocrisia e quelli che fanno in questa maniera non avranno un premio da Dio invece quelli che digiunano nel segreto perché Dio vede nel segreto riceveranno per la preghiera e anche per il digiuno riceveranno premio da Dio quindi c'è un premio fratelli anche per la preghiera c'è un premio davanti al Signore ma c'è anche un premio per quanto riguarda il digiuno quindi quando noi digiuniamo il Signore ci benedirà ci darà quello che veramente abbiamo bisogno un premio ci sarà dato qui sulla terra e anche poi dopo quando andremo col Signore quindi fratelli sappiate che bisogna digiunare perché Gesù non ha annullato il digiuno c'è un modo corretto di fare il digiuno però c'è anche un modo scorretto quindi noi dobbiamo digiunare i santi devono digiunare ma devono digiunare secondo la volontà di Dio come piace al Signore non come nella maniera sbagliata per farci vedere per farci notare per farci notare come persone più spirituali di quello che realmente siamo altre cose che non si devono fare durante il digiuno ce lo spiega il profeta Isaia noi andiamo a leggere al capitolo 58 di Isaia dove ci spiega la maniera corretta di fare il digiuno cioè quello che il Signore manda attraverso il profeta Isaia ammonisce e sgrida riprende il popolo di Israele perché e parla appunto anche anche del digiuno questo passaggio a noi ci serve per capire per capire per capire quando il digiuno è gradito a Dio capite? c'è un modo corretto di digiunare ma ci sono anche dei modi scorretti e adesso vediamo qualche modo di digiunare a cui a cui Dio non piace che non viene accettato quindi noi dobbiamo sapere anche come farlo e anche come non si fa affinché non sia rigettato dalla presenza del Signore il nostro digiuno e al capitolo 58 di Isaia leggiamo grida a piena gola non ti rattenere alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati mi cercano ogni giorno prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonata la legge del suo Dio mi domandano dei giudizi giusti prendono piacere ad accostarsi a Dio perché dicono essi quando abbiamo digiunato non ci hai tu avuto riguardo perché quando abbiamo afflitte le anime nostre non vi hai tu posto mente ecco nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano che siano fatti tutti i vostri lavori ecco voi digiunate per litigare per questionare e per quotete empiamente col pugno oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto è questo il digiuno di cui io mi compiaccio il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua curvar la testa come un giunco sdraiarsi sul sacco e sulla cenere è egli questo che tu chiami un digiuno un giorno accetto all'eterno il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo che si spezzino le catene della malvagità che si sciolgano i legami del gioco che si lasciano liberi gli oppressi che si infranga ogni sorta di gioco non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame che tu meni a casa tu agli infelici senza asilo che quando vedi uno ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne praticamente qui cosa succede cosa era successo è successo che il popolo di israele era un popolo malvagio aveva un cuore ribelle non osservava i comandamenti di dio digiunava cioè teneva il digiuno come una tradizione digiunava sì ma nel giorno del digiuno cosa faceva il popolo non è che si dedicava all'eterna affliggeva l'anima sua e si dedicava tutto il giorno a fare il bene no a pregare a intercedere a fare il bene comunque no faceva gli affari propri percuoteva discuteva litigava nel giorno del digiuno in quel giorno in cui affliggeva la sua anima nel quel giorno in cui aveva deciso di far sentire la sua voce in alto allora questo popolo cosa faceva si faceva gli affari propri cioè faceva il male anziché fare il bene ecco questo tipo di digiuno questo tipo di digiuno che se uno digiuna e poi in quel giorno fa il male in quel giorno si fa gli affari suoi cioè non lo non dedica quel giorno particolare quel giorno dedicato all'eterno non lo dedica alla preghiera allo studio della parola e a cantare a glorificare il Signore non lo dedica non 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 faceva questo il popolo e quindi non era gradito a Dio quel digiuno cioè il popolo praticamente pretendeva il popolo di Israele digiunava faceva gli affari suoi anzi faceva il male in quei giorni in quei giorni di digiuno e pretendeva che Dio li benediceva lo stesso e così non avveniva infatti ha mandato il profeta Isaia ad ammonire questo popolo ribelle e a fargli sapere che quel digiuno fatto in quella maniera non è ascoltato da Dio quindi noi adesso da questo passaggio sappiamo sappiamo che non dobbiamo fare i nostri affari quel giorno il giorno che dedichiamo di dedicarlo all'eterno quando dedichiamo un giorno all'eterno un giorno di digiuno di afflizione della nostra anima un giorno di mortificazione di questo corpo quel giorno che noi abbiamo deciso di far sentire all'eterno la nostra voce più in alto e più forte ecco quel giorno noi lo dobbiamo dedicare completamente all'eterno non dobbiamo fare niente altro e questo è il digiuno di cui si compiace il Signore un'altra cosa anche che ci fa sapere questo passaggio che abbiamo letto del profeta Isaia è che il digiuno risulterebbe inutile se noi abbiamo nel resto della nostra vita una condotta una condotta che non piace al Signore quindi noi dobbiamo ricordarci ma non solo il giorno del digiuno ma dobbiamo ricordarci che la nostra condotta deve essere deve tendere a queste cose ad esempio spezzare le catene della malvagità noi dobbiamo combattere contro tutto ciò che è malvagio sia che viene che abita dentro di noi e sia che se lo vediamo negli altri quindi dobbiamo combattere spezzare queste catene della malvagità la malvagità deve essere rotta ogni legame con la malvagità deve essere rotta altrimenti altrimenti cioè che serve digiunare se siamo schiavi del peccato no? cioè digiunare sì per chiedere perdono dei nostri peccati ma la schiavitù del nostro peccato deve essere spezzata le catene devono essere spezzate poi bisogna lasciare liberi gli oppressi cioè non è che dobbiamo opprimere le persone non dobbiamo opprimere gli altri ma dobbiamo liberarli cioè noi il nostro compito da credenti è quello di liberare da ogni turbamento da ogni agitazione interiore tutte le persone cercare di agire in tutte le maniere affinché i fratelli tutte le persone che Dio ci mette davanti siano libere interiormente perché a volte ci sono dei turbamenti interiori dei dubbi delle incertezze dei sentimenti dei rancori dentro le persone che non riescono a eliminarli allora noi dobbiamo con un consiglio con il nostro amore dobbiamo avvicinarci a questi e aiutarli a liberarsi da tutte queste cose che sono oppressi schiavi anche di queste cose poi naturalmente se abbiamo vicino a noi qualcuno che ha fame fame veramente dico però non fame falsamente se abbiamo vicino a noi qualcuno che ha fame e noi lo priviamo non gli diamo da mangiare cosa pretendiamo quando andiamo a digiunare e a far sentire la nostra voce cioè noi vogliamo essere guariti però chiudiamo la nostra mano la chiudiamo nei confronti del nostro fratello che è povero e non ha veramente di che mangiare veramente io parlo di quelli veri perché purtroppo quelli falsi ne troviamo ad ogni angolo ma di quelli veri ci sono anche quelli dobbiamo imparare a riconoscerli quelli veri quei poveri che sono veramente quei bisognosi e affamati che sono veramente affamati e bisognosi ecco cioè a che serve che io digiuno a che serve che il credente digiuna ma avvicina a sé è un povero e non gli ha dato neanche un pezzo di pane capite ecco e anche in questo caso il digiuno non serve non è utile perché prima di dover digiunare dobbiamo avere una determinata condotta e sì prima di pretendere ecco mettiamola così prima di pretendere di essere ascoltati ed esauditi quando digiuniamo dobbiamo ottenere una certa condotta quindi ci dobbiamo santificare dobbiamo guardare amare il nostro prossimo come noi stessi amare il nostro prossimo come noi stessi vuol dire quando lo incontri ha bisogno di una buona parola o ha bisogno di un pezzo di pane o ha bisogno di un vestito o di un cappotto di un giubbotto di un cappello di lana e glielo diamo ecco allora quando noi quelle opere che Dio ci mette davanti le pratichiamo ecco quando andiamo in preghiera in digiuno davanti al Signore il Signore ci ascolta altrimenti cosa serve digiunare se poi la nostra condotta non è come piace al Signore quindi aggiustiamo il nostro comportamento aggiustiamo nella nostra mente nella nostra condotta dobbiamo essere conformi alle Sacre Scritture solo dopo quando andiamo a pregare a digiunare il Signore il Signore ci ascolta e ci esaudisce questo che ci vuole dire ci vuole dire con questa munizione il profeta Isaia ha munito il popolo di Israele che era ribelle ma questo vale anche per tutti gli altri che decidono di digiunare ma non hanno abbandonato il peccato vivono completamente nel peccato oppure in quel giorno del digiuno fanno ciò che gli piace e non lo dedicano completamente all'eterno quindi il digiuno va fatto in una certa maniera per essere perché il digiuno è un'afflizione della propria anima si alza la propria voce a Dio si grida in questa maniera si grida a Dio con il digiuno ecco però bisogna sapere quello che bisogna anche condursi bisogna sapere anche che bisogna condursi in una certa maniera altrimenti altrimenti non si verrà ascoltati quindi non è che basta digiunare ci priviamo del cibo facciamo quello che ci piace e veniamo ascoltati no no assolutamente quindi bisogna sapere tutte queste cose e metterle in pratica nella legge nella legge viene citato il digiuno viene stabilito viene stabilito nella legge andiamo a leggere quello che è scritto nel libro della legge il Levitico al capitolo 16 al versetto 29 il Dio ha stabilito ha stabilito che il giorno dell'espiazione quando ci doveva essere l'espiazione annuale per il peccato in quel giorno si doveva anche si doveva anche digiunare questo per dimostrarvi che il Dio ha stabilito anche nella legge il digiuno quindi leggiamo 16 29 di Levitico questa sarà per voi una legge perpetua nel settimo mese il decimo giorno del mese umilierete le anime vostre non farete il lavoro di sorta né colui che è nativo del paese né il forestiero che soggiorna fra voi poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affin di purificarvi voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'eterno c'era un sacrificio c'era un rituale nella legge di Mosè che riguardava l'espiazione una volta all'anno si faceva l'espiazione del peccato per il popolo in un determinato giorno stabilito da Dio quel giorno bisognava anche umiliare le proprie anime che voleva dire digiunare e senza fare come abbiamo letto anche nel profeta Isaia vedete senza fare alcun lavoro quindi vedete nella legge era stabilito era detto infatti infatti non farete la legge la legge la legge del Signore dell'Eterno vedete ordinava non farete lavoro di sorta né colui che è nativo del paese né il forestiero che soggiorna fra voi quindi non farete nessun tipo di lavoro invece il popolo di Israele come abbiamo letto nel profeta di Israele cosa faceva in quel giorno si dedicava a svolgere i propri affari disputavano discutevano litigavano questionavano capite quindi quindi digiunavano è vero ma lo facevano solo non lo facevano come l'aveva comandato il Signore perché il Signore aveva comandato che quel giorno di riposo quel giorno di afflizione della propria anima di umiliazione anche doveva essere fatto in una certa maniera non si doveva lavorare appunto perché non si doveva lavorare perché bisognava in quel giorno totale bisognava stare concentrati totalmente in Dio dedicare totalmente un giorno al Signore chi è abituato a digiunare chi ha digiunato lo sa lo sa che il giorno che digiuna che dedica tutto quel giorno al Signore spiritualmente è più forte spiritualmente si libera da tante cose negative che sono su di lui nella sua mente nel suo cuore viene liberato proprio si concentra loda glorifica il Signore in quel giorno e spiritualmente rimanendo in comunione con Dio tutto il giorno spiritualmente è più forte diventa più forte perché la carne viene annichilita la carne perde la sua forza quindi anche la natura peccaminosa che alberga dentro questa carne perde le sue forze quindi la nostra la spiritualità del credente cresce in quel giorno ora vediamo anche un altro tipo di digiuno che non si deve fare perché questo ce lo ricorda il Signore andiamo a leggere cosa dice in Lucca nel Vangelo di Lucca cosa è scritto nel Vangelo di Lucca perché il digiuno va fatto va fatto come abbiamo visto va fatto in una certa maniera bisogna andare bisogna arrivare a digiunare con un certo stato d'animo in una certa maniera con una certa condotta già praticata però anche il giorno del digiuno guardate bene bisogna avere sapienza per stabilire nella maniera corretta anche il giorno perché io non posso scegliere il giorno così come capita ma bisogna usare sapienza e intelligenza anche nel scegliere il tipo di giorno faccio un esempio così per cominciare a introdurre l'argomento se un fratello deve traslocare faccio un esempio deve traslocare da una casa all'altra e chiede aiuto ad altri fratelli che lo aiutano a traslocare io è chiaro che se c'ho il tempo c'ho il tempo c'ho il tempo nel senso lo so il tempo prima non sceglierò quel giorno per digiunare in maniera poi da dover dire al fratello guarda non posso venire perché quel giorno digiuno sì è vero che il digiuno è una cosa che piace al signore però è fatto nel momento sbagliato perché in quel giorno l'opera che si doveva compiere era quella di aiutare il fratello a traslocare capite quindi non è una cosa intelligente per evitare determinate cose ah no ma io quel giorno digiuno non posso farlo non posso venire non posso fare questo non posso fare quest'altro eh no cioè tu puoi puoi prendere in giro una persona puoi prendere in giro un fratello lo puoi ingannare ma non puoi ingannare il signore come farà il signore se sbagli il momento del digiuno come farà il signore a a benedirti no se lo fai con l'inganno se stabilisci il giorno di affliggere l'anima tua per far sentire la tua voce più in alto ma se lo scegli nella maniera sbagliata il giorno non verrai ascoltato lo stesso infatti Gesù esorta con il passaggio in Luca capitolo 5 dal versetto 33 si capisce nel discorso che bisogna bisogna centrare il momento giusto per digiunare cioè in quel giorno non dobbiamo essere disturbati in quel giorno non dobbiamo non dobbiamo avere altri impegni capite non deve esserci nessun altro impedimento leggiamo ed essi 5 33 di Luca ed essi gli dissero i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni così pure i discepoli dei farisei mentre i tuoi mangiano e bevano e Gesù disse loro potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro ma verranno i giorni per questo e quando lo sposo sarà loro tolto allora in quei giorni digiuneranno disse loro ancora una parabola nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio ecco qui a Gesù vengono a chiedergli ma come mai i discepoli di Giovanni Battista digiunano i discepoli dei farisei pure digiunano e dice anche spesso digiunano tutti questi quelli di Giovanni Battista digiunavano spesso mentre i discepoli di Gesù non digiunavano Gesù gli risponde gli risponde dicendo per adesso per adesso non è il momento di digiunare praticamente non è il momento perché voi considerate c'erano spostamenti continui c'erano spostamenti da una città all'altra c'era tanto da fare quindi Gesù aveva ritenuto aveva ritenuto che non era venuto ancora il momento per digiunare non era ancora il momento per i suoi discepoli di digiunare però dice verrà il momento che digiuneranno infatti dice quando lo sposo sarà loro tolto quindi quando Gesù sarebbe morto e poi sarebbe asceso in cielo lo sposo sarebbe stato loro tolto avrebbero i discepoli digiunato cioè sarebbe venuto il momento opportuno opportuno di digiunare ma per adesso non era il momento quindi quindi vedete anche per scegliere il giorno del digiuno bisogna bisogna usare bisogna avere sapienza cioè non si può non è una cosa buona come ho detto prima digiunare nel momento in cui tu servi per un determinato compito in una determinata maniera serve la tua forza fisica per aiutare a caricare un camion con i mobili per portarli da una città ad un'altra e tu dici no quel giorno devo digiunare cioè se vengono all'improvviso e stai digiunando quello è un conto non puoi interrompere perché ormai l'hai promesso al Signore e il Signore ha sempre il primo posto se la cosa è già decisa da tempo è chiaro se vengono tu glielo spieghi e dici guarda cambiamo giorno perché quel giorno lì mi sono già impegnato con il Signore ma se tu lo sapevi cioè se sai che ci deve essere quei giorni per dire se quello ti dice che o sabato o domenica effettuiamo il trasloco tu non scegliere uno di quei due giorni per digiunare è così se quello viene a chiedere aiuto tu poi non ci puoi andare capite quindi quindi il digiuno non deve impedire non deve assolutamente impedire tutte le altre attività cioè il digiuno deve essere inserito nelle nostre giornate in un momento in cui non può impedire le altre attività che il Signore ci mette davanti che dobbiamo praticare capite non deve essere di impedimento dobbiamo stabilire un giorno in cui andiamo in comunione con Dio senza senza interrompere le altre attività è chiaro si deve incastrare bene altrimenti altrimenti cioè non è una mossa saggia non è una mossa savia quella che facciamo è una mossa stolta capite una mossa senza senza senso una mossa senza senso come quella che ha fatta e prendiamo un esempio appunto di una mossa sbagliata che andiamo a vedere quando Israele combatteva contro i suoi nemici ai tempi del re Saul re Saul durante una battaglia prese una determinata decisione quella che durante tutta la battaglia contro i propri nemici fece questo giuramento che non si doveva mangiare nulla né bere nulla cioè il problema qual è? il problema è questo che quando servono le forze il corpo bisogna alimentarlo e c'è poco da farci a volte ci serve la forza fisica e quindi se dobbiamo sollevare dei pesi dobbiamo oppure camminare lungamente abbiamo bisogno di forze e quindi dobbiamo mangiare no? mi ricordo il passaggio di quel passaggio in cui si dice che Elia chiese di morire ma il Signore poi invece gli mandò anziché farlo morire gli mandò da mangiare e per la forza che gli diede il cibo che Dio gli diede camminò per molti giorni quindi vedete prima di camminare il corpo ha bisogno di forze fisiche quindi quando dobbiamo lavorare fisicamente dobbiamo rinforzare il corpo quando invece vogliamo indebolirlo il corpo ecco che sappiamo che c'è il digiuno quindi indeboliamo il corpo e innalziamo facciamo crescere spiritualmente invece il nostro spirito e la nostra anima un esempio di scelta sbagliata abbiamo detto la fatta Saul e andiamo a leggere in prima Samuele al capitolo 14 dal versetto leggiamo dal versetto 24 sarebbe da leggere tutto il capitolo vedere ma noi cerchiamo di stringere e leggiamo solo le parti che ci interessano poi voi a casa vi leggerete poi tutto il capitolo tutto il contesto in maniera molto più ampia or gli uomini d'Israele in quel giorno erano sfiniti ma Saul fece fare al popolo questo giuramento maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera prima che io mi sia vendicato dei miei nemici e nessuno del popolo toccò cibo or tutto il popolo giunse a una foresta dove c'era del miele per terra e come il popolo fu entrato nella foresta vide il miele che colava ma nessuno si portò la mano alla bocca perché il popolo rispettava il giuramento ma Jonathan non aveva sentito quando suo padre aveva fatto giurare il popolo estese la punta del bastone che teneva in mano la intinse nel miele che colava portò la mano alla bocca e gli si rischiarò la vista uno del popolo rivolgendosi a lui gli disse tuo padre ha espressamente fatto fare al popolo questo giuramento maledetto l'uomo che toccherà oggi cibo e il popolo è estenuato allora Jonathan disse mio padre ha recato un danno al paese vedete come l'aver gustato un po' di questo miele mi ha rischiarato la vista ah se il popolo avesse oggi mangiato a sua voglia del bottino che ha trovato presso i nemici non si sarebbe gli fatto una gran una più grande strage dei filistei praticamente Jonathan scusate praticamente Saul aveva fatto questo fatto fare questo giuramento al popolo di Israele di non mangiare nulla erano in guerra erano stanchi la guerra si protraeva lungamente si dovevano spostare addirittura qui Jonathan dice dice che la sua vista gli era calata talmente era stanco che gli era calata la vista ha mangiato un po' di miele quindi quello che Dio gli ha fatto colare il popolo lo avrebbe rinforzato anche con il bottino che avevano preso dai nemici avrebbero potuto mangiare rinforzare inseguire con più forza i nemici e distruggerli quindi Saul praticamente fece scelse prese una decisione fece fare un giuramento di digiuno praticamente di non mangiare che era sbagliato vedete quindi ci sono anche quelle decisioni si possono prendere delle decisioni che sono sbagliate e Saul è uno di quegli esempi quindi vedete quando si sceglie il momento per digiunare deve essere il momento giusto cioè il digiuno in se stesso è buono però bisogna considerarlo alla stregua di tanti elementi attorno al digiuno perché ognuno di noi vive in un contesto sociale lavorativo familiare di fratellanza scusate sì fratellanza è giusto perché il Papa usò i massoni usano il termine fraternità noi invece usiamo la parola fratellanza che è una cosa diversa i massoni usano un termine noi ne usiamo un altro comunque questa era una parentesi ora per tonare il digiuno bisogna sceglierlo nella maniera corretta quindi la scelta del giorno di digiuno va fatta in maniera savia corretta quindi tenendo conto di tante cose se vengono a trovarmi dei fratelli se io so che vengono a casa a trovarmi dei fratelli io quel giorno lì non posso digiunare capite perché perché l'invito a mangiare devono stare a casa io gli devo fare compagnia non si può scegliere quel giorno lì per digiunare per farvi degli esempi vi sto facendo degli esempi negativi affinché voi comprendiate che il digiuno è buono il digiuno è buono fa sentire la nostra voce davanti a Dio però va fatto nella maniera corretta corretta facciamo un esempio io magari mi impegno a digiunare dico al Signore voglio digiunare dieci giorni così perché spara una cifra e tu lo prometti al Signore e poi ti metti a digiunare e vedi che già dal secondo giorno non ce la fai allora non fare promesse non fare voti che non puoi mantenere al Signore assolutamente non li fare è meglio che non li fare che farli e non mantenere capite questa è una maniera stolta di condursi in questa maniera se si fanno voti e non si possono mantenere quindi sediamoci a tavolino vediamo quello che si può fare quello che si può stabilire capite se ci sediamo a tavolino e organizziamo il giorno in cui si può fare il digiuno perché quel giorno lì voi vi fate un viaggio vi estraneate non siete più nel contesto normale in cui siamo inseriti tutti i giorni lavorativo familiare di fratellanza e altre cose quindi quel giorno lì voi non ci siete per nessuno quel giorno lì voi il giorno che decidete di digiunare di far sentire la vostra voce in alto a Dio quel giorno lì voi siete solo esclusivamente del Signore in quel giorno voi vi dovete dedicare a pregare del continuo a cantare a leggere le sacre scritture a gridare a Dio questo dovete fare tutto il resto non deve esistere questo sarà il digiuno il digiuno gradito a Dio è chiaro che se all'improvviso viene un fratello a trovarvi cioè questo è chiaro che se non lo si sa non lo si sa capite? però anche se viene un fratello a trovarvi voi state digiunando voi non ditegli non fate vedere che state magari riuscite no? se per caso non rimane a mangiare perché se rimane a mangiare mangiano tutti e voi non mangiate perché se l'avete promesso al Signore avete iniziato dovete finire se quello in quel caso dovete pur dire perché quelli vi dicono ma perché non mangi? a me è capitato con dei fratelli sono andato a trovarli e avevano già iniziato il digiuno a mezza giornata e ha detto ma perché non mangi con noi? e poi ho capito c'è neanche poi bisogno di chiederlo di mortificare la persona col quale si è andati a trovare e si capisce che stanno facendo una giornata di digiuno ormai sei lì e hai fatto chilometri vabbè non te ne puoi andare si parla perché quando si parla del Signore si può parlare non è che il digiuno così salta nel senso se si parla e si prega insieme ad altri non è che salta il digiuno però chiaramente è sempre meglio cercare di stabilire quelle giornate in cui siete solo voi col Signore la famiglia non c'entra i figli non c'entrano il marito o moglie non c'entrano voi dovete stare concentrati concentrati nel Signore tutta la giornata scegliere appunto organizzare quel giorno se ci sono altri impegni bisogna divincolarsi bisogna liberarsi di tutti quegli impegni che si possono avere in maniera che di essere liberi e pensare solo al Signore in quel giorno perché quel giorno lì quel giorno di digiuno dedicato solo al digiuno se ne ha una grande benedizione sappiatelo questo il Signore benedice grandemente se il digiuno viene fatto nella maniera corretta con tutto il cuore anche quindi ve lo posso dire sia perché è così nelle scritture che si riceve premio e sia perché l'ho potuto sperimentare anche personalmente quindi abbiamo visto certe cose che riguardano il digiuno che non bisogna fare ora andiamo a vedere qualche motivo per cui si digiuna ci sono dei motivi ci possono essere dei motivi particolari di cui uno ha bisogno che Dio ascolti con più forza con più che tenda che ascolti maggiormente le nostre richieste ad esempio andiamo a leggere quello che c'è scritto in Esdra capitolo 8 di Esdra era il tempo in cui finirono i 70 anni della cattività della cattività di Israele il tempio era stato distrutto i babilonesi avevano avevano preso il popolo di Israele almeno una parte del popolo l'avevano portato in Babilonia ora passati 70 anni come aveva detto il profeta Geremia 70 anni di cattività di prigionia del popolo di Israele ci fu un edito del re ci fu un edito di Ciro che dice che il popolo di Israele quelli che erano del popolo di Israele che servivano lì Dio vivente vero l'eterno potevano recarsi di nuovo potevano recarsi di nuovo in Israele e a Gerusalemme e lì gli spostamenti erano pericolosi capite cioè o ci si muoveva con un esercito o con dei soldati o se no se ci si muoveva così come semplici civili i pericoli erano tanti ora Esdra e un certo numero di israeliti dove avevano deciso di spostarsi e di andare e cosa avevano pensato avevano pensato di digiunare per chiedere protezione a Dio capite quindi avevano bisogno che Dio li accompagnasse lungo il viaggio e trovassero così protezione da Dio che Dio li proteggesse e leggiamo quindi in Esdra capitolo 8 al versetto 21 ecco là presso il fiume Ava io bandì un digiuno per umiliarci nel cospetto del nostro Dio per chiedergli un buon viaggio per noi per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva perché io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci per istrada dal nemico giacché avevamo detto al re la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano quindi vedete così digiuniamo continuo ancora così digiuniamo e invocammo il nostro Dio a questo proposito ed egli ci esaudì vedete allora cosa fece Esdra siccome aveva parlato con il re gli aveva gli aveva annunziato il Dio vivente vero che protegge quelli che si rivolgono a lui quando venne il momento di partire di andare in Israele in Gerusalemme si vergognava Esdra di chiedere protezione ma scusa infatti il re gli avrebbe detto ma il vostro Dio non è con voi se voi dite che vi protegge vi benedice vi preserva da ogni male per quale motivo chiedete una scorta armata infatti Esdra si vergognava di chiedere questo allora cosa fa ha bandito un digiuno per lui per altri per quelli che si dovevano spostare hanno digiunato e gridato a Dio chiedendo protezione che nessuno gli potesse fare del male perché i nemici sono tanti e questo badate bene lo dobbiamo fare anche noi digiunare quando digiuniamo chiedere protezione per noi per la nostra famiglia e per i nostri cari fratelli che combattono con noi perché fratelli i nemici sono tanti i nemici vogliono anche la nostra vita sappiatelo questo se non lo fanno se non cercano di togliercela è solo perché il Dio non glielo permette quindi fratelli quando decidete di digiunare ricordatevi di chiedere anche la protezione dai nostri nemici perché ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno i nemici della verità sono tanti sono spietati sono malvagi quindi dobbiamo chiedere dobbiamo chiedere protezione protezione dai nostri nemici un altro andando avanti adesso andando avanti al libro successivo che è il libro di Nemia vediamo che un altro motivo per il quale per il quale il popolo di Israele questa cerchia questo gruppo del popolo di Israele digiunò lo fece per lo fece per confessare i propri peccati sì quindi talvolta le persone raggiungono un tale livello di peccati di aver commesso tanti di quei peccati che non basta più una semplice preghiera si devono veramente umiliare di più affliggere la propria anima e confessare i propri peccati a Dio anche con il digiuno perché questo è gradito a Dio e ora leggiamo nel libro di Nemia sì perché il popolo di Israele voi sapete è stato un popolo ribelle un popolo che si è sempre ribellato ai comandamenti del Signore il Signore ha punito tutto il popolo di Israele ed ora cosa è successo a quelli che comprendevano di aver sbagliato cosa facevano confessavano i loro peccati a Dio in preghiera in digiuno e qui Nemia vediamo cosa c'è scritto nel libro di Nemia al capitolo 9 i primi versetti or il ventiquattresimo giorno dello stesso mese i figlioli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di terra per celebrare un digiuno quelli che appartenevano alla progenie di Israele si separarono da tutti gli stranieri si presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri s'alzarono in pie nel posto dove si trovavano e fu fatta la lettura del libro della legge dell'eterno del loro Dio per un quarto del giorno e per un altro quarto essi feccero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti all'eterno al loro Dio quindi vedete cercavano misericordia da Dio erano in cattività le loro anime erano veramente afflitte perché erano prigionieri dei loro nemici il popolo di Israele allora sapevano avevano capito che quella cattività era dovuta al peccato del popolo di Israele cosa hanno fatto lo hanno confessato e si perché il peccato per essere perdonato deve essere confessato a Dio se non viene confessato non può essere perdonato perché se tu lo confessi lo riconosci se tu lo riconosci sai che hai bisogno che deve essere perdonato purificato oggi parlo di oggi dal sangue di Gesù Cristo quindi quando uno pecca quando un credente pecca deve confessare il proprio peccato a Dio e andare a Dio e chiedere perdono nel nome di Gesù Cristo perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato quindi confessare il peccato è preferibile non peccare ma noi sappiamo che purtroppo siamo soggetti tutti quanti a commettere qualche sbaglio nella nostra vita purtroppo siamo come ho detto prima la nostra natura è ancora nella carne e la carne e la carne alberga il peccato no? la nostra natura ancora tende la natura di questa carne tende ancora al peccato quindi può capitare talvolta che sbagliamo e quando pecchiamo cosa dobbiamo fare dobbiamo fare e dobbiamo chiedere perdono a Dio in preghiera nel nome di Gesù Cristo dobbiamo chiedere che Dio ci perdoni i nostri peccati in questo caso del popolo di Israele era così diciamo il peccato è stato così numeroso che Dio li ha menati in cattività e quindi stavano mediante il digiuno mediante una giornata di preghiera una giornata dedicata a Dio si sono dedicati a pregare Dio e digiunare confessare per confessare i propri peccati al Signore quindi si può digiunare anche per chiedere perdono per i propri peccati un'altra cosa molto importante questa la leggiamo dal Nuovo Testamento dobbiamo andare nel Vangelo di Matteo un altro motivo per il quale si deve digiunare è la nostra battaglia la nostra guerra contro gli spiriti immondi perché stanno scritte queste parole Vangelo di Matteo capitolo 17 dal versetto 20 e Gesù rispose loro cioè praticamente il contesto è questo il contesto è questo che praticamente Gesù era salito sul monte per pregare e ai suoi con altri tre con tre discepoli con tre apostoli che aveva scelto e gli altri erano rimasti giù dal monte ora un uomo portò suo figlio per essere guarito da queste persone per essere guarito nel senso affinché fosse cacciato da lui quello spirito immondo che era in lui e non ci riuscirono non ci riuscirono qui adesso e gli hanno chiesto al Signore Gesù gli hanno chiesto ma perché non l'abbiamo potuto cacciare noi e i versetti che adesso leggiamo Gesù lo fa lo fa sapere lo fa sapere per quale motivo quel demone non fu potuto essere cacciato da quei discepoli perché vi ricordo che furono mandati discepoli in precedenza furono mandati a guarire gli infermi ad annunziare l'Evangelo guarire gli infermi e cacciare i demoni quindi sapevano che i demoni gli erano sottoposti però questo tipo di demone che c'era in questo in questo fanciullo non riuscirono a cacciarlo e allora volevano sapere perché e lo chiesero al Maestro e Gesù rispose queste parole quindi adesso ritorniamo al versetto 20 capitolo 17 del Vangelo di Matteo al versetto 20 e Gesù rispose loro a cagione della vostra poca fede perché in verità io vi dico se avete fede quanto un granel di senapa potrete dire a questo monte passa di qui là e passerà e niente vi sarà impossibile or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno vedete Gesù diede la risposta per quale motivo quel tipo di demone non potè uscire da quel fanciullo non riuscirono i discepoli a cacciarlo non riuscirono a cacciarlo a motivo della loro poca fede però dice anche guardate che cosa dice versetto 21 dice anche che questo tipo di demoni dice dice or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno vedete quindi normalmente mediante la preghiera naturalmente la fede ci deve essere sempre perché se manca la fede tu puoi digiunare quanto vuoi che se non hai fede se non hai fede tu puoi digiunare quanto vuoi che le cose non le riceverai l'esaudimento della preghiera tu non la riceverai come dice Giacomo non pensi già a quel tale che chiede qualcosa senza fede no non pensi già a quel tale di ricevere qualcosa perché se uno prega senza avere fede se uno digiuna ma non ha fede non otterrà niente non otterrà niente quindi bisogna pregare con fede la fede è un un elemento necessario per ottenere quello che si chiede però tra queste cose c'è anche il digiuno di cui è necessario ad esempio per cacciare questa specie di demoni quindi ci sono delle specie di demoni che ci sono delle categorie di demoni ci sono specie di demoni che tra di loro sono diversi c'è una specie che non esce non esce questo demone questi demoni di questa specie non escono se non con la preghiera e il digiuno quindi vedete bisogna avere anche una vita di preghiera di digiuno preghiera e digiuno quindi siccome noi sappiamo che la nostra battaglia la nostra guerra non è contro carne e sangue la nostra battaglia la nostra guerra è contro gli spiriti immondi quindi dobbiamo saperle queste cose come si combattono i demoni sicuramente anche con il digiuno e sì se noi sappiamo che dobbiamo incontrare una persona posseduta dobbiamo pregare per uno per cacciare i demoni e dobbiamo sapere che esiste anche questa possibilità perché se quel demone se quel demone è uno di quelli che non esce se non con la preghiera e il digiuno noi noi come facciamo se non abbiamo digiunato come esce quel demone quindi bisogna fortificarci digiunando e affrontando questa problematica appunto con la preghiera e il digiuno affrontando questa 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 cosa di cacciare i demoni questa questa necessità di cacciare i demoni si deve affrontare appunto pregando e digiunando quindi il digiuno vedete è risulta importante fondamentale anche per quanto riguarda cacciare i demoni quindi noi siccome la nostra guerra è contro e contro gli spiriti immondi contro il diavolo contro il regno delle tenebre allora dobbiamo sapere che vedete il digiuno ancora una volta la scrittura ci fa sapere che il digiuno è necessario non è facoltativo non è una cosa facoltativa decidiamone noi il giorno con sapienza però bisogna praticare il digiuno soprattutto in certi casi quando vediamo che c'è un disturbo che c'è effettivamente abbiamo a che fare con persone possedute bene allora si deve pregare per loro per cacciare questi demoni anche non sapendo che specie di demoni ci siano in quella persona noi dedichiamoci a pregare e a digiunare perché così noi siamo pienamente forniti siamo forti spiritualmente per poter affrontare anche la problematica di quei demoni che escono solamente con la preghiera e il digiuno quindi anche a motivo del digiuno cioè chi caccia il demone è lo spirito santo noi quindi con la preghiera preghiamo il Dio invochiamo leghiamo quello spirito immondo gli ordiniamo di uscire e lo spirito santo lo fa uscire lo caccia via però a noi a noi credenti ci è richiesto appunto per poter fare questo servizio quest'opera in maniera potente gloriosa con efficacia ci è richiesto di pregare e anche digiunare quindi vedete le scritture e questo è nel Nuovo Testamento il digiuno non è che era soltanto per il popolo di Israele poi vediamo anche altri passaggi del Nuovo Testamento non è che era solo per il Vecchio Testamento attenzione non è che era solo per i farisei il digiuno infatti Gesù l'abbiamo letto anche prima l'ha detto che quando lo sposo sarà loro tolto allora digiuneranno quindi i santi i santi digiuneranno cioè sotto la grazia si deve digiunare non è una cosa facoltativa non è una cosa che se lo vogliamo fare lo facciamo magari non lo facciamo spesso tutte 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 le settimane però guardate bene fratelli e sorelle anche per esperienza facciamo bene a stabilire a stabilire dei giorni ci estreniamo da tutti da tutte le altre persone da tutte le nostre attività normali e quotidiane e quel giorno lì lo dedichiamo al Signore perché è una cosa buona guardate bene è una cosa che noi è come se noi diciamo oggi vado a trovare il Signore va bene nessuno prendiamo e partiamo andiamo a incontrare il Signore a stare con Lui un giorno per ricevere tutte quelle benedizioni di cui abbiamo bisogno e gli altri nessuno ci deve dare fastidio in famiglia è chiaro che lo devi dire non è che lo puoi tenere nascosto oggi è digiuno io lo devo dire in famiglia dico mia moglie non cucinare per me oggi e mia moglie sa no? capite? quindi naturalmente il giorno del digiuno bisogna stare attenti a non cadere non lasciate bicchieri d'acqua in giro non lasciate bottiglie perché è un'attima distrazione vedi quella bicchiere letta lo bevi e dopo hai rovinato tutto no? quel giorno di digiuno cioè ogni cosa deve essere fatta per bene mi raccomando quindi quindi deve essere fatta nella maniera corretta quindi nel momento in cui mangiano perché se siamo in famiglia le problematiche sono tante quando stanno mangiando si cucina ci sono gli odori che poi dopo può entrare può scattare nel corpo un desiderio intenso di mangiare e ti disturba dopo la comunione spirituale con Dio cioè non fatevi trovare mentre si cucinano stanno mangiando non fatevi trovare in cucina cioè spostatevi ritiratevi in una stanza dove dove non venite in qualche modo diciamo tentati ecco dove soffrite di meno questo e è la stessa cosa se noi siamo in famiglia e digiuno a quell'altro dobbiamo agevolarlo cioè quel giorno lì non facciamo cibi elaborati molto odorosi che diciamo per far sentire male l'altra persona dobbiamo essere più sbrigativi cioè praticamente se uno digiuna gli altri lo devono aiutare o digiuniamo tutti o se no dobbiamo comunque agevolare quello che ha deciso di pregare Dio e di digiunare in quella giornata quindi vedete il digiuno è importante perché siamo in guerra e non siamo in vacanza fratello diciamo sempre lo ricorderemo sempre qui siamo in guerra cioè il maligno contro la chiesa è in guerra cioè non sta non sta perdendo tempo ogni giorno che passa sta architettando di distruggere qualcuno e di distruggere la chiesa il maligno e se noi facciamo parte della chiesa dobbiamo sapere che siamo in guerra il nemico c'è ci vuole distruggere allora dobbiamo contrapporci capite ci dobbiamo contrapporre come si conviene soprattutto con la preghiera e oggi stiamo parlando appunto anche del digiuno quindi preghiera e digiuno adesso volevo citarvi un passaggio per farvi comprendere quanto è importante il digiuno c'è anche questo passaggio che unisce due elementi primo si tratta di una profetessa secondo ci fa sapere questa profetessa come serviva il signore nel tempio quindi leggiamo nel Vangelo di Luca al versetto 36 dal versetto 36 vi era anche Anna profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser la quale era molto attempata dopo esser vissuta col marito sette anni dalla sua verginità era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni ella non si partiva mai dal tempio servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni vedete il versetto 37 guardate guardate si dice che Anna qui la scrittura ci dice che era era profetessa e ci dice che era tutti i giorni nel tempio servendo a Dio notte e giorni con guardate qui cioè come questa donna serviva il Dio lo serviva con digiuni e orazioni vedete come serviva cosa ci fa capire questo che la preghiera e anche anche il digiuno sono delle cose importanti a Dio cioè è già un servizio da solo questo capite pregare e digiunare è un grande servizio davanti a Dio quindi nessuno può dire io non c'ho niente da fare nel Signore nel campo del Signore perché c'è chi ha l'incarico di predicare c'è chi ha altri incarichi e c'è chi ha l'incarico e c'è chi chi ha altri incarichi ancora ma c'è anche chi deve pregare e digiunare come abbiamo detto prima per gli altri per la protezione anche dei fratelli che sono in prima linea in predicare vanno a evangelizzare in mezzo alla strada ci sono persone malvagie che possono fargli del male e dietro cosa succede ci sono invece i fratelli e le sorelle che sono inginocchiati che pregano digiunano e chiedono la benedizione e la protezione di quei fratelli e che la loro parola sia efficace affinché penetri nei cuori delle persone che ascoltano e si convertano abbiamo parlato tempo fa vi ricordate della preghiera di Mosè il popolo di Israele era in guerra contro Amalek ma perché vinse Giosuè contro gli Amalekiti vinse perché Mosè era sul monte che pregava e teneva alte le mani le mani dell'intensità e della fede nella preghiera capite perché Mosè intercedeva per Giosuè e per il popolo di Israele che combatteva fu questo che fece vincere Giosuè in battaglia quindi ci sono ancora oggi nella chiesa dei servizi che si vedono maggiormente tipo il predicatore ci sono altri servizi che si vedono di meno quando tu preghi a casa tua e digiuni a casa tua sicuramente non lo vedono i fratelli ma chi lo vede però questo questo lo vede il Dio capite quella è la potenza la vera potenza questi avranno sicuramente un premio davanti a Dio maggiore di quello che hanno tanti predicatori oggi perché nel silenzio della propria cameretta si sono inginocchiati questi fratelli e invocano il Signore e magari digiunano anche e quelli queste sono le cose gradite a Dio se si fa con tutto il cuore non per innalzare se stessi per apparire davanti agli uomini quindi quindi questo vedete questa donna Anna profetessa l'ho voluto citare questo per ricordare anche alle sorelle che c'è anche un ministerio per loro il ministerio di profeta e per ricordare anche a loro che anche se non vanno in giro tutti i giorni a predicare possono lo stesso fare il loro servizio a Dio che Dio gradisce che è quello di pregare e anche di digiunare quando si sentono anche quello è un servizio questo servizio lo devono fare non solo le donne anche gli uomini è chiaro l'ho voluto citare questo in maniera particolare per le sorelle ma gli uomini eppure attenzione gli uomini non è che questo non è per gli uomini anche gli uomini lo devono fare quindi abbiamo visto anche questo servizio ora vediamo qualche esempio ancora sotto la grazia nel Nuovo Testamento degli esempi degli esempi in cui i fratelli hanno digiunato e quindi ci esortano questi passaggi biblici ci fanno capire che anche sotto la grazia dobbiamo anche noi digiunare il primo naturalmente andando avanti sempre nel Vangelo di Luca lo troviamo lo troviamo è Gesù è Gesù il primo esempio è chiaro che digiunò per 40 giorni e 40 notti non mangiò nulla non beve nulla Luca riporta queste parole riguardo il digiuno di Gesù 4.2 di Luca e durante quei giorni non mangiò nulla e dopo che quelli furono trascorsi ebbe fame vedete il diavolo gli disse se tu vabbè dopo lo tentò il diavolo noi ci interessa dal punto di vista del digiuno quindi Gesù digiunò digiunò fece il suo digiuno e il numero di giorni che lui stabilì eh attenzione quindi noi cominciamo con un giorno va bene prendiamo confidenza con un giorno poi se vogliamo arrivare io sono arrivato massimo a tre giorni massimamente però quando digiuno digiuno un giorno per tanti motivi come vi ho detto prima problemi organizzativi perché tre giorni sono di più un giorno si può trovare anche più facilmente comunque sia è sufficiente inizialmente anche digiunare un giorno poi quando si avrà una tale confidenza con il digiuno e con una tale crescita spirituale maturità da credente se si vuole decidere di pregare più di un giorno allora allora si può fare però però adesso inizialmente cominciamo con un giorno che male non fa ma fa solo bene per tanti motivi abbiamo visto che Gesù ha digiunato però non ha digiunato solo Gesù in Matteo ancora a capitolo 9 vediamo versetto 14 sta scritto allora si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero perché noi ed i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano e Gesù disse questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima quando Gesù disse e rispose verranno i giorni verranno i giorni per cui anche i discepoli di Gesù avrebbero digiunato e adesso sono questi i tempi dei discepoli di Gesù quindi possiamo digiunare però vedete come come anche i discepoli di Giovanni Battista digiunavano digiunavano i discepoli dei giudei ma digiunavano anche i discepoli di Giovanni Battista quindi e Gesù non ha detto che sbagliavano nella risposta che Gesù ha dato a questi a quelli che vennero a diciamo lo volevano riprendere no a Gesù dice ma come noi digiuniamo ai tuoi cioè in pratica non fanno nulla quelli mangiano e bevono praticamente e Gesù gli dà una risposta però non gli dice che non dovevano digiunare dice solamente che sì dovevano digiunare ma nel momento opportuno non quando lo spose con loro cioè ci sono momenti in cui si deve digiunare altri momenti che invece no per i discepoli di Gesù sarebbe venuto dopo la sua partenza il momento di digiunare quindi Gesù conferma vedete ha confermato che anche sotto la grazia anche sotto la grazia si deve digiunare cioè non è come taluni questo lo ripeto lo voglio ripetere perché ci sono taluni purtroppo cianciatori seduttori di menti che parlano contro il digiuno hanno scritto contro il digiuno hanno detto che il digiuno oggi non è più necessario hanno fatto tutto un ragionamento hanno imbastito un ragionamento per annullare quello che sta scritto perché perché hanno fatto l'opera del malegno in quanto il digiuno è potente davanti a Dio è potente perché fa diciamo che rende la preghiera il giorno il digiuno rende la preghiera più forte più potente capite è come un amplificatore della voce che arriva a Dio molto più in alto con più forza e più in alto la preghiera fatta unitamente al digiuno e i seduttori di menti chiaro attaccano tutto quello che è utile al credente lo attaccano infatti hanno attaccato anche il digiuno e noi lo difendiamo gli altri lo attaccano e noi lo difendiamo gli altri lo vogliono far scomparire dalle scritture e noi invece lo evidenziamo sempre di più secondo la grazia che Dio ci dà lo vogliamo ricordare lo vogliamo citare ai fratelli che ne avranno sicuramente del bene se lo praticheranno ora andiamo ai nati degli apostoli i nati degli apostoli ad esempio anche i nati i nati degli apostoli leggiamo il capitolo 13 nella chiesa di Antiochia guardate cosa è scritto or nella chiesa di Antiochia verano dei profeti e dei dottori Barnaba Simeone chiamato Niger Lucio di Cirene Manaen fratello di Latte di Erode il Tetrarca e Saulo e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregato imposero loro le mani e li accomiatarono qui praticamente c'era un culto nella chiesa di Antiochia stavano facendo il culto tutta la chiesa stabilì in quel giorno in quel culto di digiunare vedete quindi non c'è solo un digiuno deciso singolarmente ma qui vediamo che il digiuno ed è la chiesa qui stiamo parlando di una chiesa la chiesa di Antiochia e qui il digiuno può essere bandito anche a tutta la chiesa quindi se ci sono determinati motivi si può chiedere la chiesa io ve lo faccio sapere perché è lecito ed è buono parteciparvi perché se il conduttore gli anziani e il pastore ritengono che ci siano gli estremi per dire fratelli c'è veramente necessità di pregare digiunare per determinati motivi lo dice tutta la chiesa tutta la chiesa in quel giorno lo fa perché così la preghiera di tutta la chiesa che già le preghiere fatte tutte insieme è forte è potente fatte in comunione non in comunione di cuori di pari consentimento ma se si va digiunando tutti insieme è ancora molto più forte molto molto più forte si fa sentire la propria voce sempre più in alto e più forte davanti al Signore e questi della chiesa di Antiochia avevano deciso di farlo avevano i loro motivi non ci sono spiegati ma sicuramente c'erano i loro motivi oppure era periodico lo facevano per essere sempre forti per rimanere sempre forti spiritualmente e in quel giorno vedete proprio in questo giorno in cui pregavano e digiunavano lo Spirito Santo parlò e stabilì Barnaba e Saulo come apostoli perché erano o profeti o dottori di Barnaba non c'è scritto ma di di Paolo sì che era dottore quindi fu inviato dallo Spirito Santo quindi ricevete in questa maniera il ministerio di apostolo però aveva già il ministerio di dottore questo lo sappiamo perché poi ce lo dice lo stesso Paolo in diversi passi della scrittura dice apostolo e dottore dei gentili quindi l'apostolo Paolo in questa maniera fu chiamato dallo Spirito Santo fu chiamato lui e Barnaba come apostoli apostoli dei gentili furono chiamati in un giorno nella chiesa di Antiochia quando pregavano durante la preghiera e il digiuno facevano il culto e durante il culto avevano deciso di pregare e di digiunare quindi vedete il digiuno aveva la sua la sua parte no? la sua faceva parte del culto faceva parte integrante anche della chiesa sotto la grazia cioè non era presente solo anticamente sotto la legge ma il digiuno era presente sotto la grazia sotto la grazia si può e si deve si deve digiunare poi voglio terminare con un passaggio in seconda Corinzi dove Paolo si vanta diciamo ci sono delle cose di cui si vanta perché c'erano dei falsi apostoli che si vantavano di tante cose e anche lui ha cominciato a vantarsi però di che cosa si vantava l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo si vantava delle sofferenze di quello che ha patito non si è vantato non si è vantato di cose positive ma di cose che lui ha sofferto infatti dice dal versetto 23 11 seconda Corinzi 11-23 dice così sono essi ebrei dal 22 sono essi ebrei lo sono anch'io sono essi israeliti questo perché questi passaggi ci ha dovuti scrivere li ha dovuti scrivere Paolo in difesa del suo ministerio perché c'erano a Corinto dei falsi apostoli che disturbavano e parlavano contro Paolo volevano staccare i Corinzi da Paolo per trarli dietro a loro e allora Paolo ha scritto tra le altre cose che ha scritto nell'epistola ai Corinzi nella seconda epistola ai Corinzi ha scritto anche questa difesa per se stessa sono essi ebrei sono essi ebrei lo sono anch'io sono essi israeliti lo sono anche io sono essi progenie d'Abramo lo sono anch'io sono essi ministri di Cristo parlo come uno fuori di sé io lo sono più di loro più di loro perché per le fatiche più di loro per le carcerazioni assai più di loro per le battiture sofferte sono spesso stato in pericolo di morte dai giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte ho fatto un naufragio ho passato un giorno e una notte sull'abisso spesse volte in viaggio in pericoli sui fiumi in pericoli di ladroni in pericoli per parte dei miei connazionali in pericoli per parte dei gentili in pericoli in città in pericoli nei deserti in pericoli sul mare in pericoli tra falsi fratelli in fatiche e in pene spesse volte in veglie nella fame e nella sete spesse volte nei digiuni nel freddo e nella nudità vedete Paolo ho voluto leggervi tutta questa difesa di Paolo per arrivare poi a vedere tra le cose che Paolo faceva era che spesse volte digiunava quindi anche l'apostolo Paolo quindi abbiamo visto Gesù sotto la grazia i discepoli di Giovanni Battista badate bene che i discepoli di Giovanni Battista erano già sotto la grazia dalla predicazione di Giovanni Battista in poi siamo sotto la grazia anche prima di Gesù la chiesa abbiamo visto in atti la chiesa che digiunava durante il culto e poi abbiamo visto anche qui Paolo confessa testimonia di quello che gli è accaduto e testimonia anche di quello che ha sofferto e anche dei digiuni che ha passato diciamo ha i giorni di digiuno che ha vissuto e questa era l'esortazione a digiunare che oggi volevo portarvi fratelli e sorelle affinché voi non vi dimentichiate affinché vi ricordiate che c'è bisogna pregare ma qualche volta bisogna anche digiunare quindi aggiungere alla preghiera anche il digiuno perché ci rende più forti spiritualmente e fa in modo che si raggiunga si raggiunga il desiderio le cose si ottenga l'esaudimento di quello che chiediamo e che desideriamo questa era l'esortazione vi esorto dunque a organizzarvi e a decidere di cominciare a digiunare per chi già non lo sta facendo per chi già non ha iniziato perché anche questo fa parte di quello che della giustizia dell'uomo come abbiamo letto all'inizio fa parte anche il digiuno di quelle opere che noi dobbiamo compiere magari uno dice io non posso compiere le mosine perché non ho abbastanza denaro o non lavoro io non posso dare altre cose perché non ce n'ho sì è vero però pregare e digiunare quello possiamo farlo tutti quindi se non puoi dare le mosine perché non hai denaro puoi moltiplicare i digiuni e le preghiere perché queste 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 lo puoi fare a costo zero quindi a costo monetario zero c'è un altro costo che è quello di dedicare dei giorni a Dio c'è un altro costo che è quello di ginocchiarsi davanti a Dio questo sì questo costa la carne si ribella quando sa che devi pregare devi digiunare la carne sembra che tutti gli impegni del mondo ce li hai in quel momento ti ritornano addosso in quel momento però questo è perché dentro di noi la natura carnale peccaminosa si agita sempre capite cerca sempre di prendere il sopravvento ma noi dobbiamo dominare questi desideri della carne dobbiamo perseverare nella preghiera così per avere sempre la vittoria in Cristo questa era l'esortazione e per questo per questa esortazione io ringrazio Dio per ogni cosa e a Lui do tutta la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amm